Abbiamo dato da pochi minuti la partita del Body Academy che è stato sconfitto dall'Union Treval in questa amichevole. Abbiamo il piacere di avere tre ragazzi del Body Academy. Come si chiamate? Lorenzo, Nicolò, Carlo. Prima di tutto quanto vi siete divertiti oggi a giocare? Tanto, tantissimo, tantissimo. L'ora è una bella squadra, ma mi sembra... Io lo giochi tu. Attaccante. Hai segnato oggi? Sì. Quanti gol? Tre. Tre gol. Allora, di solito quando uno fa tre gol gli regalano il pallone in Inghilterra. Chiedi al presidente Miglioli se ti regala il pallone. Ti lo voglio chiedere? Sì. Senti, qual è dei tre gol che hai fatto, quello più bello? Pensi di aver fatto il gol più bello? Quello che ho fatto a giro. Quindi il primo, il secondo o il terzo? Nel secondo tempo, nel primo o nel terzo? Del primo. Tu giocavi in difesa, se non sbaglio, giusto? Spesso ti ho visto che hai subito colpi, botte. Però nonostante tutto, hai stretto i denti e sei rimasto in capo fino in fondo. Sì, è stata molto dura perché loro mi sembravano, erano molto forti, però ce la siamo giocata bene. Siamo stati forti anche noi. Senti, chi era l'attaccante di loro, quello che ti ha messo più in difficoltà? Qual è il numero di giocatori più forte? Forse, la fascia destra. Dall'altra squadra? Avevo il 27. Era il più forte perché secondo me mi marcava molto bene e attaccava, attaccava tanto. E poi avevo dei bei tiri. Tu sei Carlo, giusto? Sì. Oggi hai segnato tu? No. In che ruolo giochi? A metà campo, in difesa? In fascia destra. Senti, parlami un po' di te. Tu hai sempre giocato nel Body Academy o prima giocavi in qualche altra squadra? Ho giocato nel Bosto, poi ho fatto una prova al Body, ho fatto una volta il Varese e poi adesso sono al Body. Quando tu giochi, qual è stato l'allenatore che ti ha più aiutato a crescere, a farti diventare bravo? Il Seba e il Misterale. Parliamo con te. Oggi hai fatto tre gol, ma qual è il gol più bello che pensi di aver fatto da quando tu giochi a calcio? E sei sempre giocato nel Body Academy. Beh sì, io gioco da quattro anni. Sempre qui al Body? Sì. Il gol più bello che pensi di aver fatto o quello più importante? Quello più bello che ho fatto è di oggi quello a giro, il primo che ho detto prima. Senti, tu hai sempre giocato al Body Academy o giocavi in qualche altra società? Ho provato a fare la prova nel Varese e anche nel Bosto. Ma non mi piacevano nel Bosto perché non ti facevano giocare tanto. Nel Varese erano tutti di basso livello e quindi ho provato anche al Body e mi piaceva perché ho trovato... C'era il Carlo che era mio amico e c'era anche il Lollo che era mio amico, quindi ho confermato al Body. Ultima cosa, qual è stata l'allenatore che ti ha più insegnato a giocare a calcio e qual è la partita più bella che pensi di aver fatto? La partita più bella che pensi di aver fatto è stata in finale l'anno scorso contro il San Michele. E ho giocato meglio. L'allenatore invece più bravo che pensi di aver avuto finora, quello che ti ha fatto più venire la passione? Il Seba. Ok, vi ringraziamo. Siamo contenti di vedervi sorridenti nonostante la sconfitta e tanto è soltanto un amichevole. e fra un po' comincerà il campionato, quindi buon divertimento a tutti e buona domenica. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ciao.